Scopri il futuro della mobilità con Central Motors. Se Central Motors è il concessionario ufficiale Toyota Torino e ti aspetta il corso Giambone 33. Siamo il punto di riferimento per chi cerca l'eccellenza del mondo Toyota, con una vasta scelta di modelli che uniscono innovazione, efficienza e design all'avanguardia. Dalla celebre Toyota Yaris al nuovissimo Toyota C-HR abbiamo la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. Il momento è particolarmente profizio perché potrete contribuire di promozioni davvero eccezionali senza lunghi tempi di attesa perché le vetture sono in porta consegna. Qualche esempio, C-HR potrà essere vostra da 29.950 euro, Yaris Hybrid da 19.950 euro e Yaris Cross da 24.950 euro. Il nostro team di esperti ti aiuterà a trovare il piano di finanziamento su misura per te, rendendo l'acquisto della tua nuova auto facile e vantaggioso. Toyota Central Motors è il partner ideale anche della tua attività. Qui troverai tutta la gamma completa di Toyota Professional e grandi promozioni per questo mese ti aspettano. Quindi non perdere l'occasione, vi aspettiamo in Corso Giambone 33. Se sei alla ricerca di un'auto d'occasione, potrai scegliere tra il variegato mondo del multimarca oppure potrai scegliere tra le tante proposte del Toyota Approved che garantiscono davvero il massimo livello della sicurezza e dell'affidabilità. Questa esclusiva selezione di veicoli usati ti offre la serenità di un'auto praticamente nuova. Ogni veicolo Toyota Approved passa attraverso una verifica approfondita che include oltre 100 controlli tecnici per assicurarti prestazioni impeccabili e la massima efficienza. Inoltre con una garanzia estesa di 12 mesi e un servizio di assistenza stradale attivo 24 ore su 24, 7 su 7, sei coperto in ogni situazione, per affrontare ogni viaggio con totale tranquillità. Ecco un esempio. Da Central Motors troverete questa Yaris Cross 1.5 Hybrid immatricolata nel 2022, pensate a 27.900 euro. O ancora questa splendida Toyota Corolla 1.8 Hybrid immatricolata nel 2020, pensate che potrà essere vostra a 20.900 euro. Central Motors ci propone anche questa splendida Toyota Yaris 1.5 Hybrid che ha un prezzo di partenza di 17.500 euro, ma pensate che grazie allo scontro rottamazione potrà essere vostra a 16.000 euro. E per tutti gli amanti dei chilometri zero abbiamo questa splendida Toyota C-HR 2000 Hybrid che pensate potrà essere vostra a 26.900 euro. E per gli amanti dei SUV, Central Motors ci propone questa splendida Toyota RAV4 2005 Hybrid immatricolata nel 2020 e pensate che potrà essere vostra con la piccolissima cifra di 31.200 euro. Con Toyota Proved l'usato non è mai stato così nuovo. La tua Toyota merita al massimo della cura. Con i tagliandi ufficiali Toyota garantisce alla tua vettura prestazioni ottimali, sicurezza e durata nel tempo. I nostri tecnici certificati utilizzano solo ricambi originali ed eseguono controlli approfonditi per garantire che la tua auto rimanga sempre in perfette condizioni. Affidati alla qualità e competenza Toyota per goderti ogni viaggio con la certezza che il tuo veicolo è sempre pronto a offrirti il meglio. Central Motors. Vivi il futuro, guida l'innovazione.